Allora questo è il discorso dell'innovazione che vi dicevo, dalla tradizione all'innovazione perché la tradizione non è mai stata una cosa prima del tempo, si è sempre attualizzata da volta in volta da generazione in generazione Allora questo è il discorso dell'innovazione, la tradizione all'innovazione Allora questo è il discorso dell'innovazione Allora questo è il discorso dell'innovazione Sous-titrage Société Radio-Canada Anzi a te, anzi a te, a misura il tavolo Anzi a te, anzi a te, anzi a me, a me ho messo a me Anzi a te, anzi a te me, a me ho messo a me Ma a me faccio da risolare Che a me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti